bene se avete già delle basi di javascript potreste pensare che questi effetti si possono ottenere anche con javascript ed in effetti è così jQuery non è altro che javascript precisamente è una libreria di javascript ovvero una collezione di blocchi di codice ed ha la funzione di semplificare la programmazione frontend in altre parole jQuery offre un modo più semplice per programmare la parte frontend in javascript ottenendo gli stessi risultati e avendo il vantaggio di essere compatibile con tutti i browser in circolazione sostanzialmente jQuery ci permette di fare due cose fondamentali per prima cosa selezionare elementi della pagina in pratica si accede agli elementi della pagina utilizzando settori css come vedremo nel dettaglio più avanti seleziono quindi l'elemento che mi serve usando solamente il rispettivo selettore css in maniera quindi più semplice rispetto al normale javascript seconda cosa ci permette di compiere azioni con gli elementi selezionati una volta selezionato l'elemento infatti i metodi jQuery ci permettono di compiere azioni con gli elementi selezionati manipolandoli creando animazioni modificandoli in seguito ad un click del mouse e così via e tutto questo senza bisogno di scrivere un codice alternativo il cosiddetto fallback code per supportare browser più vecchi con jQuery infatti non si pone il problema di incompatibilità dei browser per sintetizzare lo slogan di jQuery è write less do more scrivi meno fai di più perché jQuery in sostanza ci permette di ottenere gli stessi risultati di javascript scrivendo meno codice bene nella prossima lezione vediamo nella pratica come utilizzare jQuery sul nostro browser e e e e Grazie.